Musica Buonasera a tutti Questa sera farò la seconda puntata per quanto riguarda il restauro dei treni storici E scorsa puntata ho raccontato appunto in generale Ad esempio per quanto riguarda prenotare un biglietto E soprattutto per quanto riguarda i restauri del Polifemo Alle 601, 801 e 1700 Bello Ho visto che appunto è stato apprezzato molto questo video Quindi mi fa molto piacere Io vi ripeto per la seconda volta Se questo video vi dovesse piacere Io me lo auguro che vi dovesse piacere Magari provo a continuare a fare qualche video Tanto per cambiare un po' E nulla Beh, iniziamo questa, tra virgolette, seconda puntata Per quanto riguarda le news sui treni storici restaurati Bene Partiamo con la prima bella notizia Cioè il carro postale, tra virgolette, neanche carro postale, scusatemi Il bagagliaio Bagagliaio però della UICX E diciamo che si ritorna ai vecchi stili, no? Tipo le vecchie livree degli anni 70, 80, 90 Quando appunto c'erano le bellissime livree tipo Rossofegato, Grigio Ardesia E altre belle livree che non ve le sto a raccontare tutte Se no il video diventerebbe troppo lungo E quindi nulla Stanno appunto restaurando Anche quest'anno Una bellissima UICX Mista bagagliaio Non so di che anno sia Ma credo che sia del 76 Comunque se siete curiosi Vi consiglio più che altro di andare a vedere Su sempreferrovie.info Che almeno vedete tutti i dettagli E il modello della carrozza In sottoimpressione Così almeno siete un po' più aggiornati E invece per quanto riguarda la seconda notizia La seconda notizia Beh è molto bella Soprattutto anche per me Perché insomma Da appassionato Sono molto contento di questa bella notizia Cioè la notizia per quanto riguarda le Ale 801 La notizia è confermata Le hanno salvate Fondazione FS Quindi per me è una bella sensazione Soprattutto anche per me rivivere Diciamo Il periodo della mia Giovane età Cioè nel senso La Come posso dire La mia Sì età appunto Di quando ero Pischello E cioè Le mitiche 801 Che appunto facevo Piccole trate Ma Quando appunto le vedevo Per me era Un altro mondo E quindi nulla Ma A parte ciò Questa mattina O mi sembra pomeriggio Non mi ricordo molto bene Le ha viste Un ragazzo che conosco L'ho conosciuto sia tramite gruppi Che tramite canale Cioè Titanic Club Trains Io lo saluto Calorosamente Video fantastico Naturalmente Se siete interessati Iscrivetevi al suo canale Perché porta dei contenuti Molto interessanti E Come destinazione Ne arrivava da Ne proveniva Scusate Da Pistoia Perché si vede che per un breve periodo È rimasta Al dorso di Pistoia E E come destinazione È andata Le officine Grandi Riparazioni Di Firenze Osmannorro Almeno Da quello che Dovrebbero essere Le officine Di Firenze Osmannorro Che In teoria Non dovrebbero Rimanere a Firenze Ma come destinazione È Bologna Per appunto Fare il restauro In modo tale Da cambiare In Ivrea E perché no Magari fare appunto Il restauro totale Del complesso In questione E Nulla Speriamo Che facciano Insomma Anche Delle corse prove Magari Sulla Relazione La butto lì Magari Sulla Genova Quiterme Ma Non sarà Non succederà mai Perché l'altronde Di sicuro Fanno Delle Corse prove Magari Sulle classiche Linee Che conosciamo tutti Magari Non so Sarà La Bologna Firenze Tramite Non so La direttissima Ma Non è detto Però Tanto bisogna un po' Vedere Appunto Come Saranno Come procederanno I lavori E altre cose Varie Molto importanti Però Giustamente Un complesso Fortunatamente L'hanno salvato E quindi Ripeto Sono molto contento Di questa bella notizia E speriamo presto Di vederle Nelle nostre Insomma Linee ferroviarie Italiane E Io spero Se Fondazione FS Vedesse questo video Lo spero Ma non succederà mai Io faccio anche Un'altra Seconda Petizione Cioè Salvatele Alle 6.42 Alle 5.82 Perché quelle Sarebbe un peccato Non salvarle Perché dato che Fondazione FS Ha salvato Le alle 7.24 Non mi ricordo Bene Più che altro Il tipo di Come si dice Il tipo di modello Cioè Sì Era 7.24 Ma non mi ricordo Bene Il numero Mi piacerebbe appunto Che salvassero Anche le 5.82 Le 6.42 In modo tale Da almeno Diciamo Finire Tutte le ale E Sì Mancherebbero le 803 Però quelle purtroppo Sono state demolite Del tutto Quindi Purtroppo Non le hanno salvate Peccato Però sarebbe bello Magari vedere 7.24 6.42 5.82 Tutte e tre insieme Riunite In modo tale Da almeno Fare più treni storici E perché no Ricordare anche I bei tempi Quando ancora circolavano Sulle Nostre lette italiane E soprattutto Anche per conto Di trenitalia E Nulla Finisco qua Il video Io spero che Vi sia piaciuto Questo video Un po' corto Rispetto al Al primo video Perché il primo video Era un po' più intenso Ma insomma Ho spiegato un po' Di varie cose Speriamo che il secondo video Vi sia piaciuto E Se vi è piaciuto Che altro dirvi Appunto Iscrivetevi al canale Lasciate un commento E un like E ci vediamo Alla prossima puntata Per quanto riguarda I restauri Dei treni storici Alla prossima Alla prossima puntata Alla prossima puntata